Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con Wii Sport, visto che siamo in estate perché è il... cioè siamo ad agosto, quindi farò questo let's play, allora farò tutti gli sport e poi un extra del multiplayer che non si poteva fare, allora iniziamo con Ciampara, si, Spada Splash, un giocatore, un attimo solo, ok, io userò i miei amici, ci ho messo tre anni per caricarsi, ecco qui, per cominciare bisogna premere i, allora io ho fatto un po' di livelli, 97 livelli, ogni volta ci daranno uno di, che ha un livello di più a noi, punto altervando voi verso lo schermo per, e premia, e iniziamo la nostra battaglia, cioè è facilissimo vincere, è nei livelli del tramonto, che io non ho mai raggiunto, perché è davvero estrema, che noi faremo 70 in questa partita, ok, secondo round, come ultimo, vabbè punta, ok, abbiamo finito questo sport in un minuto, quasi due minuti, direi di fare la seconda categoria, esperienza, accetto 78, direi di fare la seconda categoria, se ci riesco, faccio tutte le categorie di uno sport, perché in tutto sono tre, ma altri sport hanno due categorie, tipo ping pong, ma quello lo faremo molto violenti, molto bene, molto bene, e poi come notate abbiamo lo stesso tizio di prima, ah quanto c'è qua ci sono le schiappe, caciotte, mamma mia, non lo so se qui c'è anche il tramonto, più morte, ma come possiamo far dire? No, ho quasi tagliato un diamante Che stanchezza, ho fatto una X Oh, ho la faccia tua Ho la faccia tua Ho la faccia tua E finiamo di un colpo da karate E in tre minuti siamo riusciti Cioè in due minuti abbiamo fatto queste due categorie Facciamo anche Niente ragazzi In pratica la terza categoria Spada a spada Che vi farò vedere qualche parte Tipo il primo livello soltanto Arriverò soltanto a quattro minuti sto episodio In pratica solo livelli Dal prossimo episodio Quando farò questi livelli Puserò un uomo mi Visto che alla fine avrò finito tutti i 10 livelli C'è una modalità più difficile Che non voglio far vedere Che non voglio far vedere proprio Che li ho completati tutti al 100% Oltre anni La modalità La modalità Ardo Oh, scarsi Quattro siete scarsi Wow, già 42% Nel prossimo episodio faremo il livello 2 Tanto per Cioè faremo la storia In pratica Faremo questo per un po' Perché non a sloccare La modalità Ardo Ma decidete voi Se fare la modalità Ardo Mostrarvela Alla fine di ogni livello C'è questo tipo nero Che è facilissimo Da battere Anche se ha tre cuori E abbiamo finito Il primo livello E noi Ci vediamo Un prossimo episodio Con I livelli Ciao